Esplorando il cuore dei Balcani e l'Albania L'inesplorato fascino dei Balcani e dell'Albania attende coloro che anelano avventure autentiche, lontano dai soliti percorsi turistici. Questa regione, ricca di cultura, storia e paesaggi mozzafiato, promette esperienze indimenticabili. La storia millenaria dell'Albania, che si estende dall'impero romano fino ai giorni nostri, è un viaggio affascinante attraverso il tempo. Monumenti antichi e città storiche narrano le vicende di un passato glorioso, testimoniando la resilienza di questo popolo. Alla scoperta delle città balcaniche meno conosciute si cela il vero spirito della regione. Luoghi dove tradizione e modernità si fondono in modo sorprendente, offrendo un'immersione completa nell'autentica vita locale. Le spiagge albanesi sono vere e proprie perle nascoste, dove il blu cristallino del mare incontra l'ospitalità calorosa degli abitanti. Un paradiso ancora incontaminato, ideale per chi cerca tranquillità nel cuore dell'Europa. La cucina balcanica è un viaggio culinario che esalta i sensi, unendo tradizione e innovazione. Piatti ricchi e saporiti raccontano la storia di un territorio attraverso i suoi ingredienti, invitando a esplorare sapori unici e autentici. Esplorare i Balcani attraverso il trekking significa immergersi in una natura selvaggia e incontaminata, dove montagne imponenti si alternano a valli segrete. Ogni passo svela panorami mozzafiato e percorsi avventurosi, promettendo un'esperienza unica. Le fortezze medievali dell'Albania, spesso erette in posizioni strategiche, dominano il paesaggio con la loro maestosa bellezza. Questi antichi baluardi, testimoni silenziosi di un passato glorioso, offrono una vista unica sulla storia e sulla cultura locale. Vivere le festività balcaniche permette di immergersi nelle tradizioni e nel folklore di questa regione ricca di storia. Ogni celebrazione è un'opportunità unica per conoscere da vicino usanze ancestrali e condividere momenti di gioia autentica. L'arte e l'architettura dei Balcani celano capolavori meno conosciuti, ma di inestimabile valore. Dai monasteri nascosti nelle foreste alle chiese bizantine, ogni angolo riserva sorprese che raccontano secoli di storia e cultura. Un viaggio a Nouveau attraverso i Balcani offre la libertà di esplorare a fondo questa terra di contrasti. Attraversando paesaggi diversificati, si scoprono città vibranti, tesori nascosti e la vera essenza di un'area geografica affascinante. L'influenza ottomana nei Balcani è un tessuto culturale ricco e variegato, che si manifesta in ogni angolo della regione. Architetture imponenti, cucina speziata e bazar colorati raccontano storie di un'epoca in cui le tradizioni orientali si sono fuse con quelle locali, creando un'eredità unica che ancora oggi vive nelle abitudini quotidiane delle persone. I parchi nazionali dell'Albania offrono un'immersione totale nella natura, con paesaggi che spaziano dalle vette innevate ai fitti boschi. Queste aree protette sono un rifugio per una biodiversità sorprendente, dove avventurarsi in escursioni e attività all'aria aperta significa scoprire la vera essenza selvaggia dei Balcani. Il lago di Orid, condiviso tra l'Albania e la Macedonia, è una meraviglia naturale che incanta i visitatori con le sue acque cristalline e i panorami mozzafiato. Considerato uno dei laghi più antichi e profondi d'Europa, è un oasi di pace e un habitat per specie uniche, rendendolo un luogo imprescindibile per gli amanti della natura. Esplorare le isole balcaniche significa intraprendere un viaggio tra scenari idilliaci e tesori nascosti. L'Adriatico nasconde gemme come l'isola di Corula o l'incantevole Mliet, dove storia e natura si fondono in paesaggi da cartolina, offrendo un'esperienza di viaggio indimenticabile lontano dalle rotte più battute. I festival e gli eventi culturali dei Balcani sono l'espressione vivace dell'anima della regione, un'occasione unica per immergersi nelle tradizioni locali. Dalle celebrazioni folcloristiche alle rassegne cinematografiche internazionali, ogni evento è un'opportunità per connettersi con l'autenticità balcanica, celebrando la ricchezza culturale di questa terra incantevole. Tra i paesaggi mozzafiato dei Balcani, gli sport avventura trovano un palcoscenico ideale. Il rafting sui rapidi impetuosi o il parapendio sopra le vette maestose offrono emozioni uniche per gli spiriti avventurosi. Esplorare le spiagge segrete dell'Albania è come scoprire angoli di paradiso terrestre, nascosti e quasi incontaminati. Queste perle rare, lontane dalla folla, promettono un'esperienza balneare esclusiva e indimenticabile. Viaggiare lungo la via Imiatia è un'immersione profonda nella storia, un percorso che attraversa paesaggi mozzafiato e antiche rovine. Camminare su questa strada romana è come ripercorrere le orme degli imperatori. Le città d'arte dei Balcani, con i loro musei e gallerie, sono scrigni di bellezza e cultura. Ogni angolo nasconde opere d'arte meno conosciute ma di inestimabile valore, testimoni di un ricco passato artistico. La vita notturna nei Balcani vibra di energie contrastanti, dai locali alla moda dove la musica moderna riecheggia fino all'alba, ai tradizionali cafene dove il tempo sembra essersi fermato, offrendo un'atmosfera unica e autentica. Nel cuore dei Balcani e dell'Albania, i luoghi sacri si ergono come testimoni silenziosi di una fede profonda che attraversa i secoli. Monasteri nascosti, moschee storiche e chiese antiche invitano all'esplorazione spirituale, offrendo un'immersione unica nelle tradizioni religiose di queste terre. L'arte di vivere balcanica si manifesta nella calorosa ospitalità e nelle tradizioni millenarie che caratterizzano ogni aspetto della vita quotidiana. Un viaggio in queste terre è un'opportunità per scoprire la genuina accoglienza e il senso di comunità che definiscono lo spirito balcanico. L'Albania verde apre le porte a un'esperienza di ecoturismo unica, dove la natura incontaminata incontra la sostenibilità. Agriturismi immersi nel verde offrono un rifugio tranquillo e la possibilità di connettersi con la terra e le sue tradizioni agricole. Le terme e i bagni termali dei Balcani promettono relax e benessere grazie alle loro acque curative. Questi antichi luoghi di guarigione, spesso situati in contesti naturali mozzafiato, offrono una pausa rigenerante dal ritmo frenetico della vita moderna. I mercati e i bazar balcanici sono una festa per i sensi, dove i colori vivaci, i profumi intensi e i sapori autentici si fondono in un'esperienza unica. Passeggiando tra le bancarelle, si può scoprire l'essenza della cultura locale e portare a casa un pezzo di storia balcanica. La riviera albanese è un tratto costiero che promette spiagge sabbiose, acque cristalline e un'immersione nella storia. Il suo litorale, ancora poco esplorato, offre l'opportunità di scoprire baie nascoste e antiche rovine. Esplorare le foreste dei Balcani significa avventurarsi in un mondo di natura selvaggia e leggende antiche. Queste escursioni offrono paesaggi mozzafiato e la possibilità di incontrare la ricca biodiversità della regione in percorsi inesplorati. Le minoranze etniche dei Balcani arricchiscono la regione di un mosaico culturale unico. Condividere esperienze con queste comunità offre una prospettiva diversa, celebrando la diversità linguistica, le tradizioni e l'arte locale. Visitare i siti del patrimonio UNESCO nei Balcani significa immergersi in secoli di storia e cultura. Questi luoghi, riconosciuti a livello mondiale, raccontano storie di civiltà passate e preservano paesaggi di incomparabile bellezza. Un viaggio nei Balcani e in Albania è un'esperienza che va oltre la semplice scoperta di un luogo. È un'immersione in una cultura ricca, paesaggi mozzafiato e un'accoglienza che fa sentire ogni visitatore come a casa.